Siamo degli affezionati di Positano, come la state vedendo Positano questo 2014? Benissimo, il tempo ci sta graziando oggi, la città è bellissima, ora speriamo che facci un bel bacio. Ieri sera ci siamo fatto una bella cena alla Cambusa, da Daniela, che è stata molto gentile. E ora dove andate? Adesso andiamo da un mitico zio Sergio a mangiarci una bella impevata di cox. Quindi questo è il tragitto, diciamo, spiaggia è laurito, è il by night? By night siamo andati a musica Positano, bellissimo. Com'è il divertimento? È assolutamente. Bella. Le balle sono scantate. Abbiamo pure un cantante modello qua, aprici il microfono, ha dato il spettacolo. Ecco qua, va bene. E' la caroballa. Va bene.